Oggi abbiamo avuto occasione di inaugurare questo piccolo ma importante segno per la nostra comunità, una Madonna del Carmelo a cui noi siamo devoti e di cui la nostra comunità parrocchiale vive il sentimento profondamente religioso e di cui è un po' la nostra patrona che festeggiamo il 16 luglio ma vuole essere presente qui in modo particolare su questa piazza che è un po' anche la via di passaggio per tanta gente. Un segno di fede anche perché è il luogo da cui tutto il mese di maggio viene vissuto dalla comunità il rosario, vissuto sulla strada, un'immagine molto bella per ricordarci che Dio non è in chiesa ma Dio è in ogni luogo dove noi lo portiamo e la Vergine Maria ci sta sempre accanto per accompagnarci a Cristo e quindi abbiamo questa piccola, semplice ma molto bella credo immagine della Madonna che tiene calorosamente e affettuosamente in braccio il bimbo e lo scapolare della Madonna del Carmine per non dimenticare mai che lei non smetterà in nessun momento di proteggerci e di farci capire quanto Dio anche attraverso di lei ci ama.